Siamo con Sua Eccellenza, Prefetto di Genova. Eccellenza, che Pasqua sarà per i genovesi? Sarà una Pasqua di restrizioni. Speriamo sia l'ultima in vista di una riapertura e di una ripresa. Siamo chiamati tutti a un ultimo sacrificio. Lo facciamo nella prospettiva di tornare prima dell'estate a una normalità di vita e di lavoro. Questo è quello che ci aspetta. Si vede la luce in fondo al tunnel? Si vede, dobbiamo credersi tutti. Ci aspetta ancora un periodo lungo. Alcune categorie ne soffrono più di altre, ma in modo anche solidale bisogna dare un contributo e concorrere tutti a una ripresa. Grazie. Grazie a lei.